Cristina Bato Revisore Ci sono ambiti di attività dove le bugie sono passabili, sono sopportabili. realizzano danni, tutto sommato, che possono essere sopportati dalla comunità. Esistono invece altri ambiti, come quello che ho deciso di intraprendere, dove non si possono più dire bugie. La posta in gioco è enorme, i rischi sono immensi e quindi una corretta informazione deve necessariamente rappresentare il comune denominatore di quello che sta accadendo. Mi riferisco appunto alla lotta ai cambiamenti climatici e soprattutto ad una corretta informazione. Purtroppo nell'ambito dei cambiamenti climatici di bugie se ne dicono tantissime e se ne dicono tantissime da una parte e dall'altra. Dicono bugie quelli che sono gli acerrimi negazionisti della natura antropica dei cambiamenti climatici. Quelli che di fatto dicono è qualcosa che di fatto non è imputabile all'uomo. Ma allo stesso tempo di bugie ne dicono anche estremisti nell'ambito ambientale che altro non fanno che allontanare il cittadino che vuole informarsi, vuole capire meglio. Ecco, non è corretto sollevare l'azione. dell'importanza e la priorità alla lotta ai cambiamenti climatici, imbrattando i monumenti anziché bloccando il raccordo anulare di Roma. Non è quella la strada giusta. La strada giusta è una corretta informazione. Allora partiamo proprio da una corretta informazione. iniziando a dire che i cambiamenti climatici in quattro miliardi e mezzo di storie del nostro pianeta ci sono sempre stati. Periodi più freddi si alternavano a periodi più caldi. Ma l'alternanza freddo-caldo si è sempre manifestata, sin dalla notte dei tempi. E quando i negazionisti dicono che la Groenlandia, che in inglese si chiama Greenland, terra verde, dicono una cosa corretta. Quando i negazionisti dicono che Annibale varcò le Alpi con gli elefanti, dicono una cosa corretta. Ma c'è una verità che viene omessa. e che purtroppo assimiliamo ad una bugia. Il ritmo di cambiamento che stiamo imprimendo al nostro pianeta non ha precedenti nella storia della Terra. Stiamo realizzando cambiamenti talmente veloci che storicamente impiegavano decine di migliaia di anni in pochi anni. e la natura non riesce ad adattarsi. La natura non può essere resiliente. E' tutta qui la differenza. E' la causa. Sono le nostre emissioni. In particolare le nostre emissioni di gas serra. CO2, anidride carbonica, rappresenta senza dubbio quella più presente. Guardate questo grafico. Guardate questa linea rossa. Queste sono le concentrazioni di CO2, di anidride carbonica, nell'atmosfera degli ultimi 800 mila anni. Guardate come la concentrazione di anidride carbonica si sia mossa in quasi un milione di anni tra quota 180 e 280 particelle per milione. Diciamocelo francamente, noi senza gas serra non potremmo vivere. Quando questa linea toccava la parte bassa di concentrazione si realizzavano le grandi glaciazioni. quando toccava invece la parte alta i relativi scongelamenti. A me piacerebbe potervi dire siamo lì, nella parte alta di questo range. Ma nulla che non sia già stato visto negli ultimi 800 mila anni. Purtroppo non è così. Non è così perché quello è il 1910. Guardate nell'ultimo secolo che cosa siamo stati capaci di fare. Guardate come questa linea si impenna su di un periodo così lungo. questo grafico è qualcosa che tende a zittire anche il più acerrimo tra i negazionisti. Ma che relazione c'è tra la concentrazione di gas serra nell'atmosfera e l'aumento delle temperature? Il sole irraggia di calore la terra. La natura fa sì che la terra assorba quel che serve. Quello che non serve viene rilanciato nell'atmosfera. Ma se nei primi strati di atmosfera andiamo ad accumulare anidride carbonica, metano, gas serra in assoluto il calore non riesce a dissiparsi. Torna sulla terra e genera l'aumento delle temperature. Amici cari, affidiamoci alla scienza. Deve rappresentare il nostro unico faro. guardate come la NASA, una comunità di scienziati, è andata a fotografare quello che accade dal 1880, dall'età preindustriale ad oggi, al nostro pianeta. guardate come gli ultimi 20 o 30 anni, durante gli ultimi 20 o 30 anni, si sia assistito ad un'accelerazione drammatica, con l'emisfero boreale, il settentrionale, il nostro, che si colora di rosso. Dove vediamo il rosso vuol dire che la temperatura media ha superato già i due gradi. Ebbene, la scienza ci dice che se quel colore rosso dovesse rappresentare la temperatura media non della parte estrema dell'emisfero boreale, ma di tutto il pianeta, avremmo varcato il punto di non ritorno. E quando dico il punto di non ritorno, intendo superare un aumento di temperatura di due gradi dall'età preindustriale, siamo a 1.3, manca lo 0,7, 0,7 gradi centigradi, per varcare il punto di non ritorno, dove, lo ripeto, se anche volessimo sarebbe troppo tardi. Molto spesso, quando si parla di temperatura media del pianeta, temperatura media degli oceani, l'affermazione che l'uomo, il cittadino di strada, che fa un altro mestiere, si domanda è ma uno o due gradi in più? Ma che cosa vuoi che sia? La settimana scorsa, affermo, c'era la perturbazione che arrivava dai Balcani, la temperatura era 10 gradi più bassa. Oggi è arrivata l'estate e nel giro di qualche giorno le temperature sono salite di oltre 10 gradi e qui stiamo a parlare di uno o due gradi. Quando parliamo di temperatura media del pianeta, quando parliamo di temperatura media degli oceani, il parallelo corretto che dovremmo fare, è con la nostra temperatura corporea. Quanto tempo potremmo vivere con una febbre fissa a 38 o a 39? Vi è mai capitato di essere in un luogo e di immaginare con una sorta di flashback nella vostra mente di esserci già stati? Scommetto di sì. A me è capitato esattamente 12 mesi fa, quando mi sono trovato su di una roccia, ed era la stessa roccia dove avevo poggiato i miei scarponi tre anni prima. Era in Antartide, uno dei famosi tipping elements che ci dice la scienza. Cosa sono i tipping elements? Sono alcuni punti che gli scienziati indicano proprio come punto di non ritorno, che ci ricordano una cosa. La Terra è qualcosa di meraviglioso, qualcosa di straordinariamente bilanciato, dove ad ogni azione corrisponde una reazione. è proprio perché è qualcosa di straordinario. Se questo equilibrio dovesse rompersi, quella che oggi è la nostra casa diventerebbe il nostro peggior nemico. Io sorrido quando sento dire salviamo il pianeta. Ma davvero siamo così presuntuosi da pensare che il pianeta che ha quattro miliardi e mezzo di anni possa essere condizionato dall'uomo che è presente sulla Terra da 200 mila anni. Da cento anni stiamo facendo danni. Chi dobbiamo salvare è il genere umano, da una casa che sarà sempre meno ospitale. Potrei parlarvi per due ore dei tipping elements. Ovviamente non lo posso fare. Allora ne ho scelto solamente uno. Pensate alla Groenlandia. Aumentano le temperature e i grandi ghiacci artici, antartici, si sciolgono e dalla massa di ghiaccio che c'è in Groenlandia i ghiacciai si spaldano e fanno scorrere quello che una volta era ghiaccio in acqua nell'oceano atlantico acqua dolce. L'acqua dolce ha un peso specifico più basso rispetto all'acqua salata. Quindi quell'acqua dolce che si scioglie dagli acciai della Groenlandia scende nel nord atlantico e resta in superficie andando a modificare la corrente nord atlantica. La corrente nord atlantica, una parte importante della corrente nord atlantica è la corrente del golfo. Quello che ha fatto della nostra Italia uno dei paesi al mondo con la migliore temperatura, col miglior bilanciamento del clima, almeno fino a qualche tempo fa. Quest'aria che scende, trasportata dalla parte superficiale del mare, tende a modificare il monzone africano e porta la desertificazione del Sahel nelle aree verdi africane, così in quello che è uno dei polmoni del nostro pianeta, la foresta amazzonica. Ed ancora più giù questa corrente di aria calda raggiunge il polo opposto, raggiunge l'Antartide con il relativo scongelamento della calotta antartica. Guardate a distanza di tre anni, quando ho poggiato l'anno scorso i piedi su quella roccia, che cosa ha filmato la mia telecamera? A Deception Island, penisola antartica, guardate questo ghiacciaio e guardate dopo 35 mesi. Queste sono immagini mie per farvi vedere in pochi mesi come nel posto più freddo e in ospitale della Terra sia diametralmente cambiato. In 35 mesi. A me piacerebbe potervi dire domani andiamo tutti dal concessionario, passiamo all'auto ibrida, passiamo all'auto elettrica, mettiamo pannelli solari su ogni tetto, arriviamo finalmente a una differenziata al 100% e ce la faremo. Bugia. Mentirei spudoratamente. È troppo tardi. Questi rimedi, per quanto importantissimi, avrebbero sortito il loro effetto se il calendario avesse segnato la data del 1990. Siamo nel 2024, abbiamo stracciato i 30 anni più importanti dell'umanità. E allora che vuol dire? Vuol dire che siamo rassegnati, vuol dire che i nostri figli e i nostri nipoti non potranno mai più godere delle bellezze di un ghiacciaio. Che le barriere coralline potranno essere viste solo dai documentari del National Geographic. No, se lo vorremo. Ma dobbiamo agire perché non c'è più tempo. E dobbiamo farlo velocemente. Come? Non con pratiche utopistiche, ma facendo leva su quello che è il perno attorno al quale si muove il mondo intero. Il denaro. La finanza. Ma non quella degli squali di Wall Street. Quello che riguarda noi tutti, con i nostri 5.000 euro di risparmio, si chiama finanza sostenibile. Sta crescendo a dismisura, portando avanti come un paladino i criteri ISG, i parametri di sostenibilità. La finanza sostenibile non dà il nostro risparmio a chi, per mi o per logica di profitto, non pensa alle prossime generazioni. Questo è un punto fondamentale. È un punto importante. È un punto che non deve vederci complici. Tra di voi, sono convinto, ci sono decine di famiglie che hanno fatto dell'educazione dei figli la cosa più importante in assoluto. Ma poi, quando andiamo in banca a realizzare i nostri investimenti, non chiediamo a chi sto dando i miei soldi. Amici cari, quelle domande dobbiamo iniziare a farcele. Si chiama finanza sostenibile. Ed è l'unica possibilità che abbiamo per non varcare il punto di non ritorno. Se ci pensiamo un attimo, non esiste regalo più bello che un papà e una mamma possa fare al proprio bambino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.